Oggi voglio parlarti di un'opportunità che potrebbe dare un nuovo slancio alla tua impresa e voglio cominciare facendoti una semplicissima domanda. Quanto sarebbe importante in questo momento per la tua attività avere più liquidità? La risposta forse è scontata. A chi non servirebbe più liquidità? Soprattutto in questo momento, vero? E se ti dicessi che puoi avere da subito, domani mattina, un nuovo affidamento senza le solite problematiche bancarie, senza burocrazie e soprattutto senza interessi? Da 20 anni BXB offre questa opportunità a migliaia di aziende in tutta Italia e li aiuta nel loro sviluppo finanziario e commerciale. Ti spiego come. BXB è un nuovo mercato, un nuovo mondo e una nuova opportunità per la tua azienda. Hai mai sentito parlare di barter? Il baratto, il metodo più antico di scambiarsi beni e servizi pagandoli con il proprio lavoro. Bene, il barter di cui voglio parlarti oggi per la tua azienda non ha niente che vedere con il baratto che tu ti immagini. E allora cos'è il barter? E soprattutto come può migliorare la tua liquidità e le possibilità di crescita per la tua attività? La community BXB raggruppa migliaia di aziende in tutta Italia. Scopri anche tu come puoi far parte di questo virtuoso circuito di imprese. Cosa aspetti?